è finita bene per il pastore tedesco adulto che nella notte scorsa ha vissuto una brutta avventura qualcuno lo ha portato via dalla sua abitazione lo ha abbandonato legandolo alla ruota di una macchina parcheggiata nel bel mezzo della notte a calcinelli in via cavallato davanti a delle abitazioni a schiera i padroni di un altro pastore tedesco proprietari tra l'altro dell'auto dove il povero animale stato legato si sono presi cura dell'animale fino a quando non sono arrivati gli addetti dell'asur per portarlo al canile abbiamo visto questo cane stamattina verso le 5 5 un quarto così avevamo il nostro cane dentro questo nostro cancello che abbaiava di continuo riuscivamo a capire cos'era e pensavamo qualche persona che passa qualche ladruncolo qualcosa e abbiamo effettivamente visto delle persone due persone qua nel nel parcheggio però e poi ci siamo accorti che il cane continua ancora a bagliare ci siamo accorti che qui dietro proprio nella macchina c'era questo cane che è un simile pastore tedesco non so se incrociato e comunque che era legato e allì per lì non ci potevamo avvicinare quindi era anche buio non riuscivamo a capire cosa cosa avesse fatto se era incastrato e poi man mano che si faceva giorno abbiamo cominciato a dargli qualcosa da mangiare confidenza alla fine poi ci saltava addosso ci abbracciava quindi non un cane randaggio questo era fuori dubbio era un cane comunque di casa e ci siamo accorti che era legato e l'avevano in pratica messo con la corda che era una cordicella di acciaio rivestite quelle di colla plastica e avevano alzato la macchina fatto leva ha messo questa cordicella sotto la ruota e abbassato la ruota quindi lui aveva la corda sotto la ruota una cosa strana che poi assurda perché potevano averlo legato anche nell'albero nel palo in qualsiasi cosa infatti mia figlia dice forse dice era per me mamma un segnale perché sa che noi siamo amanti dei pastori tedeschi e che comunque ci piacciono proprio gli animali e così abbiamo capito che sto cane era stato abbandonato e penso che sia una cosa vergognosa abbandonare un cane così eh sì le amorevoli cure delle proprietarie del canile del ragano dove l'animale è stato portato e che accoglie tutti i cani dei comuni limitrofi escluso Fano con un centenaio di ospiti di media sono durate molto poco perché il tam tam dei social ha permesso ai proprietari a cui l'esemplare era stato portato via di riconoscerlo e poterselo andare a prendere in giornata stessa tutto è bene quello che finisce bene